E' il terzo omicidio di un giornalista nel cuore dell'Europa, quello della reporter bulgara Victoria Marinova, responsabile amministrativo del canale televisivo privato TVN di Hus, nel nord della Bulgaria, avvenuto mentre la donna faceva jogging in un parco. Sullo sfondo, nonostante la polizia non escluda nessun'altra pista, inclusa quella di matrice sessuale, la corruzione e gli abusi sui fondi dell'Unione Europea. Non era una giornalista d'inchiesta a tutti gli effetti, ma aveva seguito il caso sui fondi europei ignorato dai maggiori media mainstream, che solitamente restano molto prudenti quando si tratta di alti profili investigativi. Lo afferma Tanas Chobanov, il direttore del blog d'inchiesta Bivol, che si è occupato in primis della questione. Il rappresentante dell'Organizzazione per la Cooperazione e la Sicurezza in Europa, l'OSCE, Harlem Desir, che si occupa della libertà dei media, ha scritto su Twitter di essere rimasto scioccato per l'orrenda uccisione. La storia sulle sottrazioni di fondi europei relativi a progetti europei che sarebbero stati manipolati da una società di consulenza coinvolge una grande azienda di costruzioni che a sua volta è collegata al responsabile della Lukoil in Bulgaria e ad alcuni oligarchi russi. dettagli ancora Chobanov. Alcune fonti del Ministero dell'Interno, secondo alcuni media locali e online, riferiscono che la giornalista, dopo essere stata violentata, è stata colpita diverse volte alla testa e poi strangolata.